Momenti di terrore questa mattina alla filiale dell'Anton Veneta Monte dei Paschi di Siena di Via della Saluta Rossano Veneto. Un individuo attorno alle 9.30 è entrato in banca. Una volta dentro si è avvicinata una cliente e puntandole al capo un taglierino ha intimato i dipendenti di aprire la bussola d'ingresso e mettere tutto il denaro contenuto nelle casse sul bancone. Aperte le porte automatiche è entrato un complice con il volto coperto con un passamontagna. È stato allora che i malviventi hanno saputo che le casse erano regolate a tempo e per aprirle erano necessari diversi minuti d'attesa. Il bandito travisato ha voluto controllare di persona, è saltato dietro al bancone, appurato che era impossibile prelevare il denaro, ha urlato al complice di scappare. I due hanno liberato lo stagio e a mani vuote sono usciti e saliti su una Fiat Punto, risultata rubata, abbandonata a poca distanza dalla banca. I carabinieri che stanno seguendo le indagini l'hanno rinvenuta nei pressi della fabbrica di biciclette Villiers, sempre a Rossano. Ovviamente sotto shock la donna tenuta sotto la minaccia del coltello.